Parliamo ora di trasporto pubblico. A fine mese partirà la riorganizzazione della rete degli autobus dei quartieri compresi tra via Collatina, Casilina, Prenestina e Polense nella zona extra gra. Tale riorganizzazione prevede servizi più veloci e frequenti di collegamento dai quartieri di Castelverde, Villaggio Prenestino, Ponte di Nona, Colle del Sole, Corcolle e Prato Lungo Casilino verso le stazioni ferroviarie della FL2 e Roma Tivoli e verso le stazioni metropolitane della linea C che da agosto 2019 risulta più appetibile all'utenza con una frequenza di un passaggio ogni 9 minuti. Nello specifico è prevista l'istituzione di una nuova linea da 045 che collegherà le zone di Ortona de Marsi, Castelverde, Villaggio Prenestino e Borghesiana alle stazioni metropolitane di Borghesiana e Grotte Celoni e a quella ferroviaria di lunghezza. Tra le modifiche di percorso le principali sono quelle della linea 107 che collegherà direttamente il quartiere di Corcolle alla stazione metropolitana di Finocchio e quelle della linea 555 che collegherà i quartieri Ponte di Nona, Colle del Sole e Prato Lungo Casilino alla stazione ferroviaria di Ponte di Nona e a quella metropolitana di Finocchio oltre che garantirà un'interconnessione diretta tra i quartieri stessi.